Eccoci qua Fa-temple-fel-mack-flail-fliplal Fliplal Qui ci vuole un bel arco Però io con l'arco non lo so proprio incapace Quindi... diventi arco Ah, tieni su, va via Ma perché andiamo a saltare la bottarella? Guarda questa, oh! Ezz! Ezz! Dai! Ma non è una chiocca! L'ho aumentata a 20, vedete io Ho già comunque delle percentuali abbastanza alte Perché secondo me C'è un salvataggio vecchio Dove ero comunque a livello 15 mi sembra E si vede che lui ha unito un po' le cose Per questo ho messo in modalità Difficile così almeno si pareggiano un po' le cose Perché a me è troppo semplice Lo mi è piaciuto Specialmente Di questi generi di giochi Mi piace proprio la sfida C'è qui niente Topmurt Ah, qui c'è tutto il coso degli scheletri Ma questo è un po' Questa è un po' Questo è meno Questo è meno, le aiuto! Questa è la trappola tutto è bassa aspetta 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 cura no perché questo non è massimo oddio giù la dita eh da buono lo so riferiti casino è un tosto questo non riescare di qui allora qui praticamente questa tabla qui me la ricordavo infatti lo attivare per avvelenarlo un po' anche se mi sono avvelenato anche io allora qui che mi ricordo che è tanto tempo che non prende il mondo sto gioco qua bisognava comunque attivare questi alla serpente serpente e delfino vai da un po' non apre faccio una figuraccia aperta un libro ma una borsa è già da 16 ottimo come vedete come ho detto i miei livelli di esperienza sono già alti perché molto probabilmente il salvataggio ha agganciato la mia vecchia partita e ha unito le cose cosa che in realtà io preferivo partire proprio totalmente da zero però per partire da zero penso che dovevo eliminare tutti i salvataggi sinceramente non me lo sentivo se immetti che dovesse andare male con questo personaggio almeno c'ho c'ho un altro personaggio già avanti con diciamo le missioni e tutta al limite uno prende quello e va avanti con quell'altro qui ecco qua c'è la ragnone il ragnone è tremendo ragazzi oh no 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 DIGIA ma con uno stiafo mi ha ammazzato oh eh quasi poco pensavo di più io ah non ci stelle a poter no si si è giusto bruh Pozioni, magica Ma la mia sembra non mi dava niente Eeeh che questo se mi gioca sono morto Mamma mia che liscio Dizio? Dizio? Morto? Teh, teh Poi me lo sollevo l'inicongelante Almeno avesse dato qualcosa Cioè Un premio, un'arma, qualcosa Ma perché che è? Ma perché che è? Mi aspetta che ti dico Ehi tu, vieni qui Lo sento Ma perché che è? Ma 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 che è? È un po' ma avesse diario però voglio leggere su questo che dice mi chiamano le mene finalmente scendere l'italario d'orate verso il potere degli antichi eroi eroi nord nel reno punto questo di luca e valerius non spero che quello che usava come sopra mobile e in realtà la chiave del tumulo mi chiamo tumulos allora è mio delle cascate triste ora devo soltanto raggiungere la sala dei racconti per aprire la porta la leggenda ferma che dovrò affrontare la provvedere dei nodi piaci dei indigni ma anche che ma anche che ma si dice ma anche che ma anche che quando stringi l'autido rate è la soluzione per me ma anche che quando stringi mano intorno a skyrimi a skyrimi ma l'italiano ma questi non mi ricordo ma che c'è un fottile di zombie anzi di scherito di scherito di questo momento poi con un malato no 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 tantissimo fatto malissimo ma perchè mi chiudo sempre? e mi chiudo morto? e questo? dove sei? e questo è tutto nero questo? perchè sbaglia anche qua? non mi faccio niente col fuoco, ma che è? ma chi è questo qui? ma perchè tutto nero? no da qui, ancora e qui ci sono tutti gli scheletri gli scheletri e non mi sta facendo niente? Questo è quello con l'animaccia mortale Aspetta, aspetta L'imperiale E folk L'imperiale e folk Adesso non mi faccio proprio niente Ma è un dramma questo E me ne vado Ciao Vorrei proprio via Che che mi ha tirato Allora, mettiamoci La palla di fuoco E vediamo di uno sprayer Ma non è un museo Perché se no non lo deco io No, non è lui Non è lui Non voglio lui Uuu No, non mi sta andando come prevedevo Via Mi ha cura Perché, 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 perché Metto la spada Ma non mi posso avvicinare A questo fredente Questa non mi sciotta Cavolo mi ha preso da lì Questa mi ha sciotta davvero Vai via E vai via da lì No Eh, ti raggiunto E ti pareva che non c'è rimasto Ora Altra volta Non si può ancora Basta Basta Vattene via Oh, e ascolta Ce l'ho un cavolo di arco Non è veramente tosto questo Un arco Un arco schifoso Dove sono? No, non lo vado a prendere C'è, va un arco Guardate, mi tocca a fare C'è, va un arco C'è, va un arco Un arco Difficile Mi pento Eh, questa c'è l'arco Da mia nonna, cioè Guardate anche come si usa più l'arco Tanto che non lo uso Che fa Ah, si può mettere via Ma io voglio sapere Perché c'è quel alone nero brutto Ma piglialo, porca Pulita Pulita Non si può più di nulla Su YouTube Porca pulita Ma non lo Ma che caro Ma non lo prendo No, io Non ci si mette anche quello lì Basta Tanto visto che l'arco È impossibile No, io E ora vuoi delle cose migliori? Che cavolo? Era un'evocazione questa E che cavolo l'hai evocata allora? E quello? L'ho capito, questa è una specie di mini boss Questa frontale è drammatica Perchè chiuso qui? Perchè mi chiudo un'altra volta? Perchè cominciamo a levarsi di più 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 Comunque anche questo qui E non è... Trello va Cominciamo a levarsi di più Non capisco ma... Che cavolo animato quello scorso l'alto? Cominciamo a levarsi di più Perchè Cominciamo a levarsi di più Cominciamo a levarsi di più E non capisco ma Cominciamo a levarsi di più Cominciamo a levarsi di più ma qui c'è la porta sicur3 ricordi la prima volta ci stetti una giornata allora invece era la cosa più oggetti facili del mondo però sono non lo sa libri libri ingredienti vario tirorato allora orso farfalla bufo ma non è orso ma falla bufo apriti sesamo e noi andiamo verso i guai adesso io direi anche di fa una bella cosa oggetti armi largo lungo si può anche dirà via l'altro fa schifo allora facciamo questo la spada imparata la leviamo e ci mettiamo questo e magari anche meglio anche questo va fatto da lontano perché si è qui i steri intanto adesso abbiamo l'urlo che sta qua ma che sinceramente non mi ricordo se questo tipo di scultura rilievo c'è oppure una roba di mod quanto mi leva che sei pazzo mi sei impazzito ora immediatamente dov'è ah ragazzi qui mi mettiamo una bella polla di fuoco è andato dov'è oddio quanto leva oddio che cosa qua e poi andiamo di arco come si nasconde la melma come si nasconde muoviti, muoviti, muoviti come si nasconde come si nasconde se c'è un'ora di farlo dove? che merce è? dai normale pietra del drago antica ascia della guerra del nord del freddo vabbè questa è quella classica che ti dà sempre ok niente e senza energia elementata 15 queste buona quanti di ferro normali e basta e basta mi dassi qualcosina di più non mi ricordo che non dava sempre un bastone magico che era il primo bastone magico del gioco boh mi sbagliare io non c'è niente questo scuola spettano volbo la urba st damage from attack per 60 secondi te tante a te tonti adesso che lo prendiamo i fiori pure i fiori pure dai dai c'è l'artiglio sei di ritorno dalle cascate si del mia gara ha 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 ecco qua strano sembra più piccolo di quanto ricordassi si è consumato lo rimetterò al suo posto non dimenticherò mai ciò che hai fatto per me e mia sorella posto e non c'è la fatica che ho fatto oltretutto riavere l'artiglio è davvero un problema cosa molto importante per te sei un po' brutta però io ora sei sdoppiata? hai ragione riasu? potrei rubar qualcosa no eh guarda come mi controlli no sono 100 monete non sono male anche questo ragazzi non so che cos'è è una roba di mondo aurum reactor un reattore di qualcosa non ho idea di come funziona ragazzi sarei tentati di fare una cosa però c'è anche delle belle pozioni se lo rubo si offende? via io l'ho fumato tutto dai questa mi segue io che vuoi? ah però l'hai rubata tre tre bricchettini su mamma mia si brutta guarda che ti faccio fuori io eh ti bruci? ti fai male? come? ecco mi incasso sempre nelle cose impossibili via dai scherzavo te lo riporto guarda che ci sono lupi ci sono lupi ti fai male ma quantina questa? oh guarda ci sono lupi ma sei dura eh oh che c'è? va via fai male vai via è bravo va ma via che è meglio non è successo niente? ti apposto ragazzi? salve ma guarda questa guarda io se l'attacco davanti a loro io me ne vado oh che fa? guardatela aiuto mi picchia aiuto mi picchia fate qualcosa vedo l'ora di uccidere un altro guardate quella qualcuno vedo l'ora mi picchia si era però questo è la stand eh perché oh un po' un po' e poi non ho rotto le balle eh ah è cuciti lì no e chi se ne frega eh a un certo punto che te si chi è? chi è? perché mi tira le frecce? odio 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 ma mi sento ma non è vero chi è? vori questo no dov'era il fiume? mi ci tiro? il fiume ha speso il fiume ne bisognero un fiume e lo toghi mai che situazione pure è un altro ma perché sempre mi devo sempre infilare in questi cassini sempre sempre oh bene ragazzi comunque credo di concludere qui sto ancora scappando da quella malefica malefica poi vabbè in realtà io ho rubato l'artiglio quindi avrebbe anche ragione a un certo punto va via, basta mi puoi seguire ovunque ovunque ragazzi mi infilo sempre in questi cassini è indole, è indole c'è la tentazione e quindi va bene ragazzi comunque spero vi siete divertiti come sempre lasciate un like commentate, iscrivetevi al canale che mi fa anche piacere parlare con voi ditemi se man mano che andiamo avanti vi riscopriremo le mode che ho messo vendite poi se vi piacciono se non vi piacciono consigliarmi qualche mod anche che magari io non ho messo grazie a tutti grazie a tutti